non avevo ancora visto nella mia vita la città di tresigallo in provincia di ferrara ricordo le parole di mio padre che quando passavamo in macchina diretti verso il lido mi diceva che qui durante il fascismo avevano costruito una città e c'erano anche tante fabbriche lui era nato nel 24 e all'epoca aveva 12 anni la strada che stiamo percorrendo oggi si chiama via pomposa ma anche un altro nome più antico rossonia dal nome rossoni il potente ministro del fascismo che la fece costruire per collegare la sua città natale tresigallo con ferrara 20 chilometri circa ma chi era edmondo rossoni accendo il telefono e cerco la sua biografia scopro che in gioventù dopo l'adesione alle idee socialiste ebbe una vita avventurosa che lo portò in europa e nelle americhe ed una carriera folgorante come sindacalista rientrato in italia diventò ministro dell'agricoltura di mussolini e era una figura di primo piano del regime fino allo scoppio della seconda guerra mondiale parcheggio la macchina in una strada secondaria all'ingresso del paese e con la macchina fotografica la piantina turistica e soprattutto con la bicicletta mi avvio verso il primo luogo la piazza della repubblica già piazza della rivoluzione la mia piantina consiglia la visita di 25 luoghi benissimo si tratta di una grande piazza circondata da porticati con archi a tutto sesto la sua posizione è sull'asse che congiunge la zona industriale con il cimitero di essa è stato detto che sembra di trovarsi all'interno di un quadro metafisico di De Chirico il paragone può reggere in effetti manca solamente la musa inquietante o il grande metafisico è il baricentro del paese ma non vi si trovano gli edifici pubblici più importanti che vedremo successivamente in altri luoghi qui si concentrava solo il consumo l'incontro il commercio mentre i simboli del regime saranno altrove e non mancheranno al centro la bella fontana con quattro sculture in che raffigurano le gazzelle lasciamo la piazza dopo aver ammirato come ci siano ovunque elementi decorativi e nulla è lasciato al caso entriamo quindi in viale roma il cui nome è molto significativo in questo grande viale si trovano infatti gli edifici pubblici più importanti e simbolici giriamo a sinistra e vediamo in fondo un edificio molto importante si tratta della casa del balilla e poi casa della gil gioventù italiana del littorio luogo di formazione fisica e ideologica dei giovani dotato anche di una grande palestra immagino che la gioventù fascista in certe occasioni uscisse da questo edificio e in marcia facesse la sfilata su viale roma sotto gli occhi delle autorità e della popolazione vediamo poi l'adiacente edificio che serviva come spogliatoio e bagni per i giovani propagandisti giro la bicicletta e percorro anche io il viale roma sorta di piccolo viale dei fori imperiali fino alla casa del fascio ecco la casa del fascio con la torre littoria e il pennone con la bandiera vediamo anche l'immancabile balcone dal quale il rossoni avrà sicuramente parlato al suo popolo il bar roma adiacente presenta ancora malgrado lo stato di abbandono tutti i dettagli originali di un secolo fa il bar roma adiacente presenta ancora malgrado lo stato di amici primavera di bellissima all'altra estremità dell'asilo per l'infanzia sulla cui facciata si trovano altri simboli del regime un imponente balcone con un basso rilievo e la scritta il sacrificio degli eroi arde perenne in alto si legge quattordicesimo anno dell'era fascista accanto all'asilo vediamo la chiesa di santa pollinare con il suo porticato la chiesa era stata fondata nell'anno 1000 ed era preesistente ma i progettisti non mancano di rivestirla di travertino romano che è il materiale da costruzione usato in tutta la città vi è inoltre un grazioso porticato che ha un impianto curvilineo e si prolunga su viaverdi a questo punto ci domandiamo ma chi sono i progettisti di questo incredibile exploit architettonico forse si tratta di piacentini o libera o pagano no si tratta di un gruppo di artisti geometri ingegneri assolutamente sconosciuti anche locali coordinati dal Rossoni non vi è nemmeno un architetto anche lo passato per l'abbiamo ma chi è un'istituzione per la città l'abbiamo come si tratta di piacentino e ci sono i progettisti che con il bambino che con il bambino si tratta di un bambino o la città è più importante In queste città di nuova fondazione, città ideali, città del sole, realizzate da Mussolini, erano previsti una imponente serie di servizi al cittadino, ospitati in appositi edifici. Qui vediamo la casa del ricamo, l'opera nazionale maternità e infanzia e l'albergo. Il motivo architettonico ricorrente è costituito da un volume semicircolare che sporge in facciata, spesso accompagnato da pensiline a sbalzo. Il razionalismo italiano è anche questo. Con la bicicletta mi avvio verso l'ultimo gruppo di fabbricati da visionare. Ma le sorprese non sono finite. Vedremo in questo piccolo piazzale una serie di edifici veramente interessanti. Arrivo così al piazzale Forlanini, dove si fronteggiano una serie di edifici. Prima la scuola elementare, con la facciata curva concava, quindi ci appare l'imponente portale di ingresso del campo sportivo, vero e proprio arco di trionfo del regime. L'edificio è un'altra parte di 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 edificio Domus Tua con l'imponente torre serviva come luogo ricreativo per l'operaio fascista corporativo creato da Rossoni. Qui poteva trovare anche una sala da ballo. La torre ha secondo me una funzione urbana, posta lungo la via del mare e la porta d'ingresso della città. Per ultimo vediamo l'ospedale, la colonia post sanatoriale come si chiamava, con il suo grande parco. Non poteva mancare il momento della cura dell'uomo che viene seguito e assistito in tutti i suoi momenti della vita, dalla nascita alla morte. Giro la bicicletta e dopo aver consultato la cartina mi dirigo verso il cimitero del paese dove si trova la tumba di Rossoni. Ma lungo il tragitto mi fermo a guardare anche questo edificio misterioso chiamato il mulino, destinato alla produzione, molto improbabile, di energia elettrica. Esco dal paese dopo aver pedalato per circa un chilometro, prendo un viale alberato di cipressi che conduce al cimitero. Mi rendo conto che la città era stata dotata di un vero e proprio arredo urbano, alberi, panchine, lampioni, con grande cura, anticipando di molto una tendenza che si attuerà molti anni dopo. Il portale di ingresso è bellissimo e di grande impatto visivo da apprezzare anche il disegno delle cancellate. Ecco il razionalismo italiano. Ecco la città metafisica. Metto la bicicletta nella rastrelliera. La tomba di Edoardo Rossoni si trova subito vicino all'ingresso. Si vede in lontananza un enorme bracere in pietra, altissimo. Forse doveva ardere una fiamma perenne. Il cancelletto della tomba con le fiaccole romane è aperto e quindi posso entrare. Mi raccolgo un attimo con un eterno riposo, poi esco ad osservare una grande scultura sulla facciata della chiesetta. E lo vedo finalmente. Eccolo, l'uomo angelo, che sta per salire al cielo. Oppure è caduto sulla città, non lo so. Lascio a voi la scelta fra le due possibilità. Si fa sera, devo sbrigarmi, perché devo ancora vedere tutta la zona delle fabbriche. Infatti a Tresigallo, in quegli anni, Rossoni fa costruire una decina di fabbriche. E si ebbe così uno sviluppo economico ed occupazionale senza precedenti. Tutti a Tresigallo avevano un lavoro. Il Consorzio Agrario per la lavorazione di frutta e ortaggi nel 1936. Il Consorzio Produttori Canapa. La Siari, società di incremento agricolo e rinnovamento industriale per la lavorazione del latte. La Saat, per la lavorazione di prodotti di allevamento. La Inta, per la lavorazione della lana artificiale. La Celna, costruita tra il 1936 e il 39, per la lavorazione della cellulosa. In realtà non entrò mai in funzione per lo scoppio della seconda guerra mondiale. Un'ora segnata dal destino, fatte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. Un'ora segnata dal destino, fatte l' Grazie a tutti.